Il super bonus si estende al settore turistico. Il ministro Massimo Garavaglia ha annunciato che si sta predisponendo un decreto che va nella direzione di uno sgravio dell'80%, ma con regole semplici. Si tratta di iniziative che prevedono, tra gli altri, credito di imposta, tax credit e sussidi diretti. I tempi, promette Garavaglia, saranno rapidi perché le risorse ci sono e sono importanti. Nel recovery c'è un fondo dedicato alla ristrutturazione delle strutture ricettive di ogni tipo, che vale 1,8 miliardi e che con l'effetto leva può arrivare oltre a 3 miliardi.